Musica 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 Questo qua è questa signora, io non so se sta facendo le squadre Questo qua è l'ultimo Questo ci vorrebbe avere un parquetato a avanti credo Vedo che pietala senza oltre Marcello Chiaré Imagi Sì. Grazie a tutti Vanzo, non ho, rex del solge, vanzo, non ho, rex del evito! Pag. 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 P dai stai a guadagnare la mano hai guadagnato parecchio su quello dietro il passo è buono oi 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 sentivo che questo lo sa come quanto c'hanno davanti? 4 4 quello stava a piedi numeri e tu erano 6 stava a piedi numeri ma è 4 beh lui ha perduto eh questo l'ha perduto voglio dire e beh il nostro sa quanti c'erano fatti? non so sa quanti qui faceva nella polizia faceva le staffette aveva fatti tipo 20 giri in aria oltre che era appassionato pure per lavoro non ci vedo io non tengo tutti e quattro insieme eh non tengo tutti e quattro insieme e beh Marco non può eh non si non mi è non mi è la che non mi è non mi è Sì, stanno là, stanno dentro, stanno dentro. Ciao! 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 Se stai a piai i numeri dei primi 7-8 dopo averci se è nato, non mi sembra il cazzo! Qua di come stai a piai i numeri se è nato, a piai i primi 10 dopo la c'è a piai non ce la voglia di stare Questa è andata ancora di solitane? Ci sta, ci sta Forse a metà ci saranno altri 5 km eh? Comunque a qua finiscono le piante Il pezzo più duro è quello dei reri Il pezzo più duro è quello la dei reri Quello è il pezzo omicidiale Allora non è che stava chiuso No, no quello è andato qua dove si vede la recensione Questo che sta dietro sta a rinvenire Eh? Questo dietro prima sembrava che essi ceduto invece sta a rinvenire Allora... Vieni con un giro Vai che ce ne stanno quattro eh! Non c'è di vede, allora devi dirvi più Non c'è di vede No ma non c'è il bagaggio 3 minuti Non si devono fermare Non si guardano un bagno con i tratti Anche che... ... Non c'è il cacere in��... ... ... ... Grazie a tutti. 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 There you go. Grazie a tutti. Grazie a tutti.